Agenti e militari in pattuglia con il taser, la pistola elettrica in dotazione a polizie e carabinieri di Fano, a breve anche alle altre forze dell'Ordine di Pesaro e Urbino. Prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute, la finanza di Pesaro sequestra 60.000 articoli in quattro esercizi commerciali. Il Comune di Fano va in aiuto dell'attività economica e in arrivo 400.000 euro per il pagamento delle bollette. L'ambiente marino sarà il centro del convegno che si terrà sabato alla Pinacoteca San Domenico. Ricercatori e cittadini a confronto per soluzioni sostenibili, efficaci e condivise. Al via la rocca malattestiana, il convegno europeo su Pirandello. Domani la proclamazione del vincitore del premio Ruggeri. Una serie ben ritrovati sul canale 19 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo con un fatto di cronaca che si è verificato ieri sera a Canavaccio di Urbino. Protagonista un 28enne che ha seminato il panico con un macete, accaduto intorno alle 22.30 nelle vicinanze del ristorante La Casa dei Cuochi, dove il giovane ha iniziato a danneggiare auto e moto parcheggiate. Poi ha aggredito il titolare del ristorante che era intervenuto per cercare di fermarlo. E a quel punto che il ragazzo, come vedete in questo video pubblicato dal resto del Carlino, ha preso il macete lungo circa mezzo metro con il quale ha minacciato anche i clienti del locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che sono riusciti a bloccarlo. Il 28enne è stato portato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Urbino. E come avete sentito dai nostri titoli, ora anche i poliziotti e i carabinieri di Fano hanno in dotazione il taser. Il questore Michele Todisco ha assicurato che verrà utilizzato soltanto nei casi estremi che non provoca danni permanenti. Nel cinturone delle forze dell'ordine, oltre alla pistola d'ordinanza, ci sarà anche il taser, un'arma a impulsi elettrici già distribuita in diverse città d'Italia, tra cui Fano. Da alcuni giorni è in dotazione degli agenti del commissariato di Fano e dei carabinieri, ma l'uso verrà gradualmente esteso a tutti i reparti. L'obiettivo è quello di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche di pericolo. Sia a noi come Polizia di Stato, sia l'arma dei carabinieri, le pattuglie presenti sul territorio, le nostre volanti in pratica, più le pattuglie dei carabinieri di nucleo e radiomobile, l'operatore avrà a disposizione questo ulteriore strumento, questa arma, che in realtà è una vera e propria arma. L'utilizzo del taser, come ha spiegato il questore Michele Todisco, è regolato da criteri ben precisi ed è necessaria un'adeguata formazione. Allora, si potrà utilizzare nei casi estremi, quando tutti gli atti tentativi per immobilizzare l'interlocutore violento o pericoloso per sé e per gli altri, allora quando non ci sono altre soluzioni potrà essere utilizzata. Il taser è che avrà questa funzione appunto di immobilizzare a breve distanza naturalmente il soggetto e quindi affermare appunto l'eventuale pericolo, interrompere il pericolo che potrebbe provocare o far insorgere sia per sé stesso che per gli altri e per i nostri stessi operatori. Il questore, infine, ha spiegato come funziona esattamente quest'arma che non provoca, come affermato da Todisco, conseguenze permanenti. È una pistola che lancia dei piccoli ganci elettrici che immobilizzano per alcuni secondi e che fanno perdere la coscienza a chi viene colpito. In alcune parti del corpo ben individuate, infatti, potranno essere lanciate esclusivamente in alcune zone del corpo e non altre. Gli operatori sono stati addestrati per fare questo tipo di attività a certe distanze e in certe situazioni. No, danni non ne provoca. Immobilizza, perde la coscienza per alcuni secondi che poi viene il tempo necessario per immobilizzare e rendere non più pericoloso il soggetto. Siamo arrivati al collasso, state distruggendo la pesca. Sono alcune delle frasi scritte sugli striscioni esposti ad Ancona durante la protesta organizzata dagli operatori della pesca contro il caro gasolio che sta mettendo in ginocchio anche questo settore presente al sit-in oltre 200 addetti delle marinerie provenienti da Marche e Abruzzo. Il corteo, partito dal mercato ittico e controllato dalla polizia, intenuta antisommossa, ha causato qualche disagio alla viabilità. I partecipanti hanno utilizzato fumogeni e slogan per sensibilizzare e lanciare appelli alle istituzioni. La Guardia di Finanza di Pesaro ha sottoposto a sequestro in un punto vendita di un noto franchising nazionale più di 1800 cosmetici sulle cui confezioni non erano indicati gli ingredienti di composizione del prodotto in violazione della normativa di settore. L'operazione fa seguito ad altri controlli eseguiti nei mesi scorsi in tre esercizi commerciali che hanno portato a sequestro di 59.000 articoli potenzialmente pericolosi per la salute. Si tratta di cosmetici, materiale elettrico, articoli per animali, di cancelleria e da decorazione. La merce di un valore commerciale pari ad oltre 15.000 euro è stata ritirata dal mercato. I responsabili invece sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 25.800 euro. E adesso parliamo della tassa sui rifiuti perché il Comune di Fano va in aiuto delle attività economiche per il pagamento delle bollette. Per il terzo anno consecutivo il Comune di Fano mette in atto una manovra di sostegno a favore delle attività economiche attraverso delle agevolazioni delle tariffe tari. Ad annunciarlo questa mattina il Sindaco Massimo Seri e gli assessori Cuccherini e Lucarelli. Abbiamo messo a disposizione per questa manovra di un fondo di oltre 400.000 euro che le attività produttive con criteri e con percentuali diverse che abbiamo condiviso con l'assessorato alle attività economiche si vedrà direttamente in bolletta per cui non ci sarà bisogno di fare una richiesta ma si vedrà direttamente in bolletta la diminuzione in percentuale dell'importo. Penso che sia una manovra molto importante e utile al netto dei tanti aumenti che comunque gravano sulle nostre attività economiche cittadine. Vogliamo lanciare anche un messaggio di fiducia, aggiunto invece Lucarelli. Questa agevolazione, ha spiegato l'assessore, vuole non solo calmierare gli aumenti in atto ma anche arrivare a ridurre le tariffe attualmente in vigore. Nello specifico abbiamo deciso anche insieme al tavolo economico e all'associazione di categoria di inserire delle percentuali di diminuzione in base anche a quelle che sono le merceologie che hanno subito danni o comunque ovviamente hanno avuto problematiche in questo periodo di pandemia in questo ultimo anno di questa situazione internazionale così delicata. E sono il 10% di diminuzione a favore di campeggi, stabilimenti balneari, esposizioni, alberghi, studi professionali, autosaloni, tabaccai, plurilicenze, filatelia, tende e tessuti, attività artigianali come parrucchierie, barbierie, estetisti, falegnami, idraulici ed elettricisti, carrozzerie, autofficine e attività industriali con capannoni di produzione. Il 20% a favore di cinematografie e teatri, impianti sportivi e parchi giochi, tutto il commercio cittadino e i negozi di vicinato, quindi i negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartellorie, ferramente, banchi di mercato di beni durevoli che hanno questo, ovviamente hanno sofferto tantissimo in questo periodo di pandemia, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticcerie, questo il 20%. E invece il 30% abbiamo voluto, insomma, calmirarlo a favore delle agenzie di viaggi che sono quelle che ovviamente hanno voluto i maggiori danni. Quindi credo che questo debba essere un messaggio di grande fiducia che noi vogliamo trasmettere alla città, ovviamente una speranza e una luce per il futuro. Quattro corsie per la Fano Grosseto non sono un capriccio, ma l'affermazione di un diritto per le Marche e per lo sviluppo dei suoi territori. Abbiamo raggiunto un risultato inaspettato e storico. È il commento dell'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli che ieri ha ricevuto in Regione l'ingegnere Massimo Simonini, commissario straordinario per la realizzazione della Fano Grosseto in occasione della conferenza di servizi preliminare convocata da ANAS. È un passaggio decisivo, ha dichiarato Baldelli, per far sì che la I78 non si riduca ad un'arteria che si allarga e restringe in maniera illogica come una fisarmonica, penalizzando soprattutto chi percorre il tratto marchigiano e le popolazioni che vivono nei comuni a ridosso della strada. Le Marche e la provincia di Pesero-Urbino, aggiunto, hanno diritto di avere una Fano Grosseto che risponda alle esigenze e rappresenti una leva strategica di sviluppo che rompa l'isolamento rispetto alle altre regioni del centro Italia e ai porti del terreno. Tutti i lotti verranno progettati con possibilità di raddoppio, ha ribadito il commissario Simonini. I prossimi passi saranno quelli di trasmettere gli atti al Ministero comunicando la totalità dei consensi e poi, a concluso, faremo le valutazioni economiche. Si chiama Fano Ocean Action ed è il festival dedicato all'approfondimento di tematiche legate all'ambiente marino. L'appuntamento si terrà nella mattinata di sabato prossimo all'interno della Pinacoteca San Domenico. Filippo Vucci. La città di Fano ospiterà sabato 28 maggio il primo appuntamento dedicato alla scienza sul mare. Fano Ocean Action, il titolo dell'evento organizzato da Unimar, l'associazione Università del Mare, costituita lo scorso anno e che vede al suo interno diverse associazioni e ricercatori che operano all'interno del Fano Marine Center. Il festival, che si svolgerà alla Pinacoteca San Domenico, prenderà il via dalle ore 9 con un nutrito programma aperto a tutti. Scopo dell'iniziativa? Quello di ampliare il livello di partecipazione e di conoscenza della società nei confronti delle tematiche legate all'ambiente marino. Ci sarà il presidente della società italiana di biologia marina, ci sarà il professor Roberto, che è la professoressa Antonella Penna, ci sarà il professor Roberto Danovaro, presidente della stazione zoologica di Napoli e quindi referente per la stazione zoologica presso il Fano Marine Center. E interverranno poi i rappresentanti di diverse associazioni ambientaliste molto impegnate nella tutela dell'ambiente marino, come l'associazione Medriact, Greenpeace, WWF, Lega Ambiente, Mare Vivo. e tutti racconteranno quelle che sono le loro linee di azione proprio per la tutela dell'ambiente marino e successivamente racconteremo invece le attività che l'associazione Fano Università del Mare sta svolgendo sul territorio. Sarà presentato un libro pubblicato da Enaudi, Il clima che cambia l'Italia, scritto da Roberto Mezzalama, sarà intervistato appunto l'autore del testo che ci racconterà quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro territorio e sarà quindi possibile sensibilizzare il pubblico anche su queste tematiche. Siamo molto contenti di ospitare a Fano il primo festival sulla scienza del mare. Questo è sicuramente un'occasione straordinaria perché non solo lega le due realtà e quindi ci faciliterà l'accesso all'interno della struttura ma soprattutto la conoscenza delle cose che verranno svolte all'interno ma è fondamentale anche perché andremo a trattare nella specificità dei temi legati al mare che si sensibilizzano su quello che la cura l'attenzione ma poi ci chiedono anche di modificare dei comportamenti che spesso non sono corretti e quindi ben vengono questi momenti che sicuramente nel tempo sono convinta la città farà crescere. E alla Rocca Malatessiana di Fano questa mattina ha preso il via il convegno europeo su Pirandello. Saranno un centinaio i relatori che prenderanno parte alle tre giornate dedicate al meeting europeo su Pirandello e all'iniziativa organizzata in occasione del 150esimo anniversario dalla nascita di Ruggero Ruggeri. Questa mattina la Rocca Malatessiana di Fano è stato dato l'avvio al convegno con il saluto delle autorità locali a cui è seguito l'intervento di artisti italiani e docenti delle università e accademie europee. È un evento che riesce a trovare il suo spazio europeo e questo è molto importante per Fano perché attraverso l'immagine e la forza di Ruggero Ruggeri e l'abbinamento fondamentale con Luigi Pirandello siamo riusciti a trovare la dimensione giusta per rappresentare l'identità di Fano attraverso un suo grande personaggio una personalità che è appunto Ruggero Ruggeri che ha dato la forza, la creatività a Pirandello di realizzare quelli che sono i suoi massimi spettacoli teatrali, sei personaggi in cerca d'autore, Enrico IV. Ecco, grazie a questa individuazione del ruolo di Ruggeri all'interno del teatro di Pirandello abbiamo anche proposto il premio Ruggeri che darà invece spazio ai giovani e questa è l'idea vincente perché al di là della commemorazione si dà l'opportunità ai giovani di trovare una dimensione non solo a livello nazionale ma anche soprattutto sul piano professionale perché faranno tre performance dentro la casa Ruggeri. Delle 30 domande con videoregistrazione da parte di attori under 30 provenienti da tutta Italia ne sono state selezionate 12, tra loro ci sono quattro fanesi i ragazzi nel pomeriggio hanno partecipato ad una lezione tenuta dagli stessi componenti della giuria Carlo Simoni, Arianna Ninchi e Matteo Giardini l'evento è sostenuto dal Comune, dalla Fondazione Carifano, dalla BCC Fano, dalla Fondazione Teatro della Fortuna e da Fano Rocca Malatessiana con il sostegno di Aset. Ci siamo proprio impegnati per la cultura del nostro territorio e non solo sosteniamo il territorio economicamente ma la cultura la riteniamo molto importante dove sono soprattutto i giovani, le scuole che partecipano ad eventi come questo e andiamo anche oltre. Con le scuole abbiamo anche aperto un tavolo per studiare la cooperazione con i ragazzi delle scuole. Domani appuntamento alle 9 alla Pinacoteca San Domenico per un incontro aperto al pubblico dal titolo Teatro e Scuola si proseguirà alle 11 con la presentazione dei monologhi selezionati alle ore 15 invece si terrà la designazione del vincitore del premio Ruggeri farà parte della commissione giudicatrice anche il presidente Giorgio Gragnola. L'iniziativa dei 150 anni per la celebrazione del nostro celebre concittadino trovano la fondazione tra i partner di questa iniziativa perché valorizza i giovani, la fondazione da sempre è attenta a promuovere iniziative che consentano ai nostri giovani di cogliere delle opportunità quindi questa mi sembra un'opportunità molto bella, molto importante per i nostri giovani, per la nostra città e spero che non sia soltanto l'inizio di una serie di iniziative in questo senso. WeBike, Marche e Miscela 04 presentano a Spasso con Gio un percorso cicloturistico, enogastronomico e culturale che offre un viaggio nella città di Pesaro, città della musica e della bicicletta. Il percorso, gratuito e in sella alle due ruote, si svolgerà domenica 29 maggio alle 9.30 lungo le Bicipolitane passando per la zona del Porto, Baia Flaminia, Lido Pavarotti, Parco Miralfiore e il Centrocittà con brevi tappe in cui sono previste delle piccole degustazioni fino ad arrivare intorno alle 11.30 alla Palla di Pomodoro dove inizia e si conclude il tour con un mini concerto tenuto dal celebre pianista Mario Mariani, ambasciatore rossignano nel mondo. Per le persone affette da disabilità sono previste biciclette speciali per un percorso inclusivo a tutti gli effetti. Lunedì 30 maggio invece si cammina con il sindaco Matteo Ricci tra le vie del Centro Storico e del Lungomare appuntamento alle 20.45 a Rocca Costanza con il cellulare a portata di mano un momento di partecipazione cittadina legato al benessere e all'attività fisica che servirà a promuovere e divulgare Pesaro che cambia.it il portare ufficiale del Comune di Pesaro che si propone di fornire una visione immediata di facile consultazione e di orientamento alle informazioni relative alle opere pubbliche in fase di realizzazione finanziate e completate. Ci spostiamo al Teatro Battelli di Macerata Feltrea dove domenica 29 maggio alle ore 21 si terrà un tributo a Egno Morricone a cura dell'orchestra Fiati del Montefeltro. L'iniziativa è organizzata dall'Unione Montana del Montefeltro e dal Comune di Macerata Feltrea in collaborazione con la Proloco Locale. L'ingresso sarà libero, senza prenotazione e fino ad esaurimento posti. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato all'accordo sottoscritto tra nove carnevali storici italiani tra cui quello di Fano per la candidatura a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione è per domani mattina alle 7 con Massimo Foghetti. Arrivederci.